Prosegue la lotta alla criminalità del Comune di Pescara. Questa mattina è stato consegnato all'amministrazione comunale un immobile confiscato alla malavita. Sì, oggi è un bel giorno per la Comunità pescarese perché il Comune di Pescara ha acquisito un immobile che era oggetto di atti criminosi al patrimonio dell'ente. E quindi da oggi in poi quest'immobile che è ubicato in via Tevere numero 5, angolo via Salaravecchia, sarà a disposizione della città e quindi sarà a disposizione delle associazioni di volontariato o delle associazioni che si occupano di sociale o per esigenze di residenzialità pubblica. Comunque tutte questioni che riguardano i pescaresi perché oggi finalmente quest'immobile che fino a qualche tempo fa era in mano a delinquenti, oggi invece è in mano ai pescaresi per bene. È un grande segnale, questo è il primo di 27 immobili che saranno acquisiti al patrimonio dell'ente Comune di Pescara nei prossimi mesi, tant'è che il prossimo Consiglio Comunale vedrà approvata una delibera in cui ci sarà proprio l'acquisizione di questi beni al patrimonio comunale.